bene, adesso giusto per a titolo di completamento di questa parte io ritornerei nella parte relativa alle primitive e vedrei un poco prima di affrontare il pannello di form che cosa sono i polygroup, che cosa è possibile fare su una static mesh da noi creata e quant'altro, se ci mettiamo in create ad esempio la prima cosa da dire è che io come sappiamo posso mettermi in una parte qualsiasi e semplicemente per confermare dare click, però abbiamo la possibilità ovviamente di creare per ogni oggetto un numero di suddivisioni, io la porto a zero per il momento, questo che cosa serve? ovviamente se andassimo a creare un cilindro o una sfera abbiamo bisogno di definirla nel dettaglio al nostro piacimento ovviamente il numero di suddivisioni serve appunto a quello ovvio che quando faccio una mesh statica tipo un cubo è meglio limitare al massimo il numero di suddivisioni a meno che non devo fare delle operazioni particolari allora do click do conferma e adesso con l'oggetto selezionato con la static mesh selezionata se mi sposto verso i polygraph ma questo è un pannello in realtà di selezione che possiamo avere anche qua vedete che già nel pannello di trasformazione io posso andare a fare una serie di operazioni giusto giusto per rinfrescare tutto cioè posso andarmi a spostare il pv liberamente in un'altra posizione e lo faccio nel più classico dei modi andando in modalità edit pv e spostandomi di pv in un'altra posizione in modo che esso possa avere una trasformazione rispetto a questo punto e non più al suo baricentro in questo caso possiamo avere magari la possibilità di operare degli allineamenti ad esempio creiamo un altro box lo mettiamo qui ok do conferma se li seleziono entrambi e vado nella parte relativa alla trasformazione potrei allinearli allinearli come? secondo la x magari secondo la y ok o comunque anche secondo la z perché c'è questo tipo di differenza? perché io palesemente sono andato a spostarmi il pv quindi o cancella o questa parte qui dove il pv non è centrato cancelliamola prendiamo questa parte qui vedete che mi si attiva anche una parte relativa al duplicato se io faccio un duplicato posso scegliere se cancellare il risultato ovviamente ogni qualvolta faccio il duplicato mi viene creato un duplicato all'interno della nostra cartella generated ok? ma posso scegliere di lasciarlo nella scena semplicemente togliendo la spunta qui e accettando vedete che ha fatto un duplicato di questo oggetto qua se li selezionassi entrambi per meglio mostrarvi il tipo di allineamento potrei andarmi lì ad allineare allineare secondo l'asse delle x delle y vedete che se io tolgo e ho bisogno solo dell'allineamento verso x spunto qui l'allineamento verso y spunto qui ma i due forse io li ho mossi in modo particolare o l'allineamento verso z in questo caso ho centrato i due oggetti spostiamo questo oggetto qui in modo da rendere più visibile questa funzione se vado in align ok? se li voglio allineare su tutti e tre anzi facciamo un'altra cosa spostiamolo anche sull'asse delle z ok? molto semplice selezioniamoli entrambi andiamo in align ovviamente se ho l'allineamento di tutti e tre i due oggetti essendo uguali in termini di geometria mi combaceranno ma togliamo la spunta supponiamo volessi solo un allineamento rispetto a z l'allineamento lo posso avere di tipo vabbè di tipo combinato per prima il primo per prima il secondo per adesso lo lasciamo combinato cioè questo ci dice praticamente quale deve prendere come elemento di riferimento per l'allineamento poi possiamo dire se vogliamo un allineamento a che tipo di posizione quindi questo è importantissimo possiamo scegliere se utilizzare il wireframe il perimetro del box o il pv lasciamo pv e ad esempio speriamo di voler allineare secondo z vedete che lui ha fatto di tipo combinato ha preso il punto medio ma se io ad esempio mettessi il primo selezionato per esempio seleziono il primo seleziono il secondo e faccio allinea secondo z vedete che il secondo si va ad adattare diciamo all'altezza del primo volessi allinearlo secondo la x ho l'allineamento in questo senso volessi allinearlo secondo la y ho l'allineamento in questo senso cioè uno specchietto molto pratico a dire il vero una chicca che può molte volte servire all'interno di un real è come un sistema di allineamento ok abbiamo parlato della possibilità di duplicare vediamo un poco in breve giusto per terminare questo pannello il bake x form ovviamente è soltanto la possibilità una volta applicato tutte le trasformazioni su quell'elemento di salvarle nella forma stessa in modo che l'oggetto per certi versi diventa definitivo ok questa funzione invece combine è diciamo merita un piccolo approfondimento allora supponiamo di creare e metterci ancora in create primitive e scegliamo ad esempio cylinder ok supponiamo di scegliere un'altezza di 50 cm e portiamo questo a 5 ok in modo da creare una situazione di questo tipo ok diamo complete e mettiamo ad esempio questa parte qui dentro supponiamo di voler fare già abbiamo visto come utilizzare il box boolean ma supponiamo di voler fare dei fori quindi col tasto alt magari mi metto uno snap ogni 50 cm col tasto alt mi sposto ma facciamo di meno visto che la geometria non lo consente quindi 10 10 10 10 10 10 10 e perché no 10 15 anzi l'ultimo lo eviterei li posso raggruppare tutti cioè li posso selezionare in modo multiplo ok attenzione e andare in transform combine ok accetto una volta che sono andati sono andato scusatemi a combinarli ho un unico oggetto ovviamente se selezionassi adesso questo e questo oggetto qua e volessi farne una sottrazione potrei farlo ovviamente lui prenderebbe in considerazione tutti i nostri pezzi in realtà questo qui probabilmente è una copia esiste anche un altro oggetto infatti sotto ok lo avevamo fatto probabilmente prima mettiamoci una parte qualsiasi vedete che io posso farne la sottrazione ad esempio in questo modo o comunque potrei sceglierne scusate vox boolean ok apriamo il pannello delle opzioni erano semplicemente chiuse posso scegliere ovviamente tutte le operazioni del caso insomma ok e poi potrei come sappiamo aumentarne la definizione attraverso il proxy della attraverso l'accuratezza attraverso il numero di interazioni ok ok ovviamente come forse già ci è capitato questo tipo di operazioni bisogna bisogna andarci un po' con le molle perché un po' perché il pannello è per le prime volte questo tipo di di situazione per la prima volta si affaccia nel mondo real potrebbe creare qualche problema di crash in realtà a me forzando alcuni parametri è capitato ma comunque questo era a titolo di completamento per quanto riguarda anche la parte relativa alle trasformazioni beh cancelliamo e facciamo un ennesimo esempio questa volta andiamo prima sui polygroups e poi andremo sul deform ok poi abbiamo una parte relativa al ai triangoli cioè quindi sempre alla possibilità di poter modificare all'interno di questo plugin molto ben strutturato e molto diciamo così molto ma molto potente fare altri tipi di operazioni poi abbiamo la parte relativa alle uvis normal che invece ci servono appunto per fare in modo di ottimizzare tutte le normali e tutte le uvis sul nostro oggetto in modo da poterne meglio applicare in modo da poterlo meglio ottimizzare in fase di applicazione di materiale ma torniamo in create facciamo un esempio di una primitiva sempre prendiamo un box mettiamo un box che sia magari con una base di 200 e un'altezza di 400 diamo invio ecco qua ci mettiamo in questa posizione sempre con una suddivisione a zero ok e clicchiamo su complete adesso vediamo un po' che cosa ci offre se ci mettiamo nel pannello polygraphs ok che cosa ci offre questo pannello? beh innanzitutto oltre ad altre funzioni che sono presenti anche nei pannelli precedenti come la possibilità di selezionare e di trasformare ma vediamoli diciamo così singolarmente andiamo ad esempio in select ok se ci mettiamo in select noi possiamo innanzitutto stabilire la size del nostro cerchio ok per quanto riguarda la selezione diciamo in questo caso lui triangolizza come vedete supponiamo anzi facciamo un'altra ipotesi forse è più logica farla insomma prendiamo una primitiva e mettiamo la suddivisione ad esempio a due una piccola suddivisione anche per quanto riguarda il nostro box ok adesso se io mi metto nei polygraphs e vado nella voce selected vedete che abbiamo due suddivisioni no? c'è una e due due split della nostra della nostra static mesh supponiamo di prendere magari solo questa parte qua ovviamente se clicco tengo premuto il pulsante control questo mi serve per deselezionare e adesso qua sopra posso fare vedete tutta una serie di operazioni iniziamo dalla selezione vedete che posso andare a cancellare i triangoli posso andarli a separare posso andarli a disconnetterli posso andare nel caso di problemi di normali ad aggiustare a flipparle specchiarle e posso andare a creare dei polygroup in polygroup che cosa sono? sono una sorta di perimetro e insomma si trovano quasi in tutti i software soprattutto in fase di unwrapping sono dei perimetri ben delineati staccati dove è possibile selezionarli e fare e trattarli quasi come oggetti a parte anche facendo parte della stessa static mesh ma mi spiego creiamo un polygroup in questo caso e accettiamo ok andiamo in poliedit vedete che lui mi ha tracciato questa parte come se fosse una parte a sestante adesso se io volessi selezionare la faccia selezionerei la faccia potrei selezionarmi un lato ma potrei fare la stessa cosa anche per quanto riguarda queste parti qui quindi posso fare la selezione al lato e quindi andarmi a deformare un po' tutto alla mesh al vertice vedete che posso fare un'operazione di questo tipo o alla faccia quindi posso andarmi a cliccare capirete bene che se io non avessi creato adesso un polygroup non avrei avuto la possibilità di andare a selezionare questa faccia vedete che una volta che ho selezionato questa faccia può fare tutta una serie di operazioni di offset ma le classiche ma prendiamone qualcuna come riferimento ok? prendiamone qualcuna come riferimento ad esempio inseriamo delle facce e proviamo ad estrudere queste stesse facce queste stesse facce ok? ecco che posso fare una situazione di questo tipo ovviamente non solo adesso vedete che io ho questa faccia che fa parte sempre del polygroup però è selezionabile a se stante anche se è una faccia estrusa supponiamo di applicare l'immagine avevamo caricato se non erro qualche qualche immagine io sono andato probabilmente a cancellarla ma andiamo a reinserire qualche immagine che avevo già preparato sotto file img prendiamo queste due mettiamole ad esempio in questa posizione ok e supponiamo di dare ad esempio questo tipo di materiale a questo blocco vedete come si sono deformate noi dobbiamo andarle poi a modificare vedete come siamo solo al secondo pannello e forse sarà passata più di un'oretta perché le cose da dire sono veramente tantissime vedete che io ho la possibilità di poter visualizzare o nascondere il nostro materiale vedi che con le facce selezionate io potrei scegliere una diversa disposizione di queste UVS ok supponiamo di selezionare questa supponiamo di metterci in modo ortogonale e di dare una disposizione di questo tipo supponiamo di selezionare quest'altra e di trattarla in un altro modo eccetera 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 vedete come tutto è molto semplice e flessibile e quindi potrei crearmi tanti polygroup su questa forma ma su altre forme ovviamente per creare delle forme più articolate e complesse e potrei mettermi in in polygroups nel momento in cui io magari volessi andare ad editare la mia forma geometrica attraverso il classico sistema sub-budget che è quello appunto relativo ai ai bordi ai vertici e alle facce lo posso fare ok potrei andare a applicare su questo stesso oggetto un polydeform vedi supponiamo di prendere magari questa questa parte qui relativa alla alla nostra forma ovviamente andrei a spiattellare tutto mi posso andare a modificare tutte le forme tutte le eh partendo dalle dalle linee ok dai vertici e dai bordi diciamo la forma creata ovviamente lo posso fare attraverso questi tipi di deformatori modificatori ok potrei anche lasciare di tipo linear di tipo eh l'aptation è un modificatore che ovviamente va a modificare in un certo modo la nostra la nostra forma di base e quant'altro una volta accettato io ho il mio oggetto pronto pronto all'uso ok ce l'ho nella cartella sempre generated lo prendo e lo vado ad inserire all'interno della mia scena qualora io lo volessi ok ovviamente noi siamo andati a sovrapporre questo tipo di materiale nel momento della costruzione potrei applicare tutt'altro tipo di materiale ma abbiamo questo materiale mi metto qui vedete che ho ripristinato la mia forma quindi possiamo che cosa possiamo andare ad agire a livello di vertici a livello di bordi e a livello di facce possiamo andare ad applicare dei modificatori possiamo andare a fare tutte le operazioni come quella di andare a spostare il pivot come quella di creare dei polygraph in modo da poter intervenire solo su di essi nel caso in cui possiamo oltre a fare tutte le varie oltre ad avere tutte le varie possibilità come quelle ovviamente di estrudere di creare un offset di aggiungere facce e quant'altro abbiamo anche la possibilità di selezionare un polygroup particolare per dare magari un altro tipo di texture o di andare a modificare le UVs ok e quindi creare un altro tipo di disposizione per quella per quella mappa ovviamente poi dopo magari faremo un esempio pratico completo quindi vediamo vediamo cos'altro dire le cose da dire ovviamente sono ancora tantissime quindi insomma io scorporerò questa parte in tante parti dipende da dove arriveremo iniziamo a cancellare questa forma facciamo un breve riepilogo io prendo praticamente una primitiva la fisso questa primitiva che ho preso andando all'interno della polygroup posso andare a selezionare posso andare a a visualizzare i polygroup i polygroup sono una serie di poligoni scelti in questo caso vedete non c'è alcun tipo di suddivisione quindi in questo caso non vi sono polygroup sostanzialmente e quindi il software fa riferimento solo ai bordi ai vertici e alle facce ma ovviamente abbiamo visto che se io se io vado a creare dei polygroup in modo semplice vedi poliedit ad esempio potrei faccio faccio un esempio stupido potrei andarmi a modificare ecco tutta la parte relativa a questa shape potrei andarla a modificare ok ma a questo ci siamo arrivati perfetto quindi sappiamo che possiamo creare dei polygroup in fase di selezione già ad esempio se io seleziono questa parte solo qua vado qua e dico e dico al Bravo Unreal creami un polygroup una volta che l'ha creata una volta che ha creato il polygroup posso andare in edit polygroup vedete che lui mi riconosce questa parte qui mi riconosce se clicco all'interno mi da la possibilità di creare di inserire ad esempio una faccia inset ok mi da la possibilità di poter fare le operazioni che si fanno in genere in un programma di modellazione ed ho una situazione di questo tipo vedete come io cerco di essere il più puntuale possibile per trasferirvi le nozioni ovviamente tutte queste cose che ci stiamo dicendo hanno una innumerevole hanno un grandissimo campo di applicazione quindi noi stiamo cercando soltanto di andare a prendere le funzioni diciamo così del pannello poi dopo ovviamente alla nostra creatività sta nel creare le forme abbiamo visto come è possibile deformare ma se ci mettiamo ad esempio nel pannello deform qui posso attingere a tutta un'altra serie di opportunità ad esempio quello di creare uno smusso del mio oggetto attraverso dei semplici parametri vedete come lui va a smussare posso aumentarne le interazioni ovviamente in questo caso voglio dire i poligoni sono talmente limitati ma potrei andare visto che ci serve questa funzione ad applicare un remesh vedete dai 5000 portiamo ad esempio il software ovviamente ci metterà un po' di ma neanche tanto ad elaborare la nuova mesh una volta avuta la nuova mesh ovviamente io posso in modo più semplice andare ad operare in termini di scusate di sculpt questo è un vero e proprio pannello per scolpire la nostra forma quindi adesso se vado in smooth per esempio mi cambia la cosa perché io se vado anche ad integrare vedete in questo caso vedete che la mia forma si è andata a smussare a seconda della nostra nuova geometria ovviamente quindi posso andare a smussare cancel posso andare a fare tutta un'altra serie di operazioni ma vi cito le più straordinarie ok plain cut ad esempio vedete che lui mi dà la possibilità di tagliare e questo mi viene in mente ovviamente nel campo architettonico agli esplosi agli spaccati assonometrici o prospettici e quant'altro ci dà la possibilità di attraverso il polycut di creare vedete in questo caso ha creato un foro ovviamente il nostro foro può essere definito ma potremmo cambiare l'operatore tra cut through e cut and fill se vado su cut and fill vado in un certo senso come dice la parola sia tagliare ma poi vado a riempire in modo che quella mi rappresenta in realtà un'altra zona di riempimento ok posso andare a scegliere ovviamente la tipologia rettangolo rettangolo arrotondato e quindi posso andare magari ad arrotondare gli spigoli in modo più accentuato penso alla costruzione di vaniporta penso alla costruzione ma ci arriveremo anche in questo caso per chiudere questo pannello mi sto soffermando perché è veramente una novità questa del mondo quindi è giusto che voi sappiate ok quindi vado a creare una situazione del genere supponiamo di diminuire un poco questa parte qui posso metterla in questa posizione posso creare una qualsiasi forma estrusa estrutata al momento stesso attraverso questa possibilità cancelliamo e andiamo in scalp scalp sappiamo in genere che cos'è è un normale scalp vedete che io posso scegliere di spingere quindi di muovere i miei i miei vertici ovviamente tutto ciò è proporzionale vedete in questo caso come c'è una seghettatura evidente ma proprio perché il bisognerebbe usare questo pannello scout ad una definizione maggiore ma comunque giusto per farvi capire il senso quindi posso spingere o posso diciamo attraverso shift o semplicemente muovendo il mouse scegliere di andare avanti indietro scegliere di smussare le nostre superfici stabilire la forza ovviamente e quanto altro molto più interessante seppure lui non fa altro con questo strumento scout di operare delle scusate tra virgolette operazioni a livello vertici lati e poligoni come sempre molto più interessante a mio modo di vedere invece è la parte relativa al andiamo sempre in deform al dynoscult cioè alla scultura fluida dinamica lo puoi vedere subito se seleziono in dynoscult vedete che io magari posso andare semplicemente a cliccare sul nostro oggetto mettiamoci non in smooth ma in move ecco perché e andarmi a creare delle formi veramente perché in questo caso che cosa fa poi posso fare tutta una serie di operazioni ovviamente vedete che io spingo in avanti e viene in avanti spingo sopra e mi porto questa parte sopra spingo sopra spingo qua lateralmente mi faccio un altro braccio ovviamente questo non fa solo un'operazione sui vertici e sulle facce ma va a incrementare anche ovviamente il numero relativo ai polivori ovviamente anche in questo caso vedete come è esagerato questo tool posso andare a effettuare lo smusso di queste di queste parti per meglio definire queste parti e posso creare praticamente una qualsiasi forma voglio dire immagino ad una immagino ad una immagine raster dove andarmi a ricalcare a scolpire ad andare adesso noi stiamo enfatizzando ma possiamo andare in modo più puntuale qua vado dentro qua vado fuori qua mi alzo insomma qua posso andare a esagerare nella ricostruzione del cerchio se mi accorgo che ci sono parti che non vanno bene magari la vado a smussare mi vado a creare una superficie organica a mio piacimento opla ce l'ho subito e ce l'ho fruibile all'interno di capite che tutte queste funzioni che vi sto dicendo sono delle cose fino a poco tempo fa impensabili per quanto riguarda real andiamo ad esempio non vado ad applicare displays perchè è meglio applicarlo su pochi poligoni perchè vi garantisco che si si potrebbe frizzare la macchina se non crashare e questo è anche un modificatore sappiamo il classico chi non lo conosce magari può fare una ricerca il classico modificatore di displays che va a modificare attraverso una maglia la nostra forma geometrica per esempio se andiamo su andiamo su è rimasto poco altro in realtà space da vedete che io posso andare a modificare ancora attraverso queste parti qua il nostro oggetto questo lo potremmo fare con una assolutamente superficie diciamo così una attraverso magari una forma meno complessa infatti facciamo così togliamo questa qui potremmo anche attingere qualche forma già da noi realizzata prendiamo questa forma qui se vado in space deform vedete che ho la possibilità attraverso questi agganci innanzitutto siamo in modalità piega ma potrei ovviamente mettermi in un altro tipo di modalità come flare o twist per verificarne il funzionamento attraverso questi comodi agganci posso scegliere il tipo di piega che anche in questo caso non è evidente perché abbiamo bisogno chiaramente di una primitiva che sia trattata almeno di un paio di suddivisioni ok prendiamola sicuramente tra tutte le geometrie costruite ne avevamo qualcuna ma se io mi mettessi adesso a livello di deform e vado su space deform vedete che ho la possibilità di piegare agganciando da un lato o dall'altro ad esempio scendiamo questa parte qui adesso stiamo utilizzando il modificatore blend piega potrei utilizzare il modificatore flare applicare questo tipo di modifica alla nostra geometria modifica potrei applicare il twist ovviamente semplicemente operando su questi agganci posti diciamo lateralmente alla nostra selezione quindi anche questa è un'altra opportunità di vedere quante combinazioni in realtà esistono io direi a questo punto dopo aver fatto diciamo così dopo aver speso un bel po' di tempo su questo pannello spero che vi abbia in un certo senso aperto la mente fornito tante indicazioni quello che voglio dirti che adesso una volta visto queste funzioni cercheremo di metterle in pratica per il campo cioè nel campo dell'architettura tenete presente che fino a poco tempo cioè fino a poco tempo fa praticamente fino alla versione 4 e 25 anche creare una piccola camera all'interno di Unreal senza andare a sfumodare software di diciamo così di modellazione era praticamente impossibile ovviamente le geometrie ti consentono di fare pochissime cose adesso ha veramente rivoluzionato il mondo della modellazione all'interno di Unreal beh detto questo io per adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo capitolo ciao